OpenStreetMap, mappiamo il Monferrato Casalese. Ecco la presentazione di un video di come fare tutta la procedura per inserire un nuovo elemento e mappare tutti insieme il Monferrato Casalese. Prima cosa andiamo su OpenStreetMap per capire bene di cosa si tratta. OpenStreetMap è una mappa mondiale in cui tutti gli utenti possono contribuire e arricchire di informazioni questa mappa. Una mappa non è vista così a piccola scala con poche informazioni, ma come vediamo a Casal Monferrato le informazioni sono veramente tante. Anche altre città sono più sviluppate, ma vediamo come è messo il Monferrato Casalese. Quindi andiamo sul sito di Monferrato Paesaggi o altri siti per prendere delle informazioni. Ci interessa ad esempio la chiesa di San Luigi. Verifichiamo su OpenStreetMap la posizione della chiesa di San Luigi se riporta già qualche elemento in OpenStreetMap. Come vedremo non è mappato alcunché, se no il cimitero. Possiamo entrare nell'editor. Nell'editor possiamo mappare il perimetro del cimitero e individuare appunto il luogo di culto e mappare la chiesa. Per mappare OpenStreetMap c'è una encicopedia, si chiama appunto Wiki OpenStreetMap, in cui tutti gli elementi che si possono mappare sono qui presenti e ben descritti. Una volta che abbiamo inserito il nostro elemento in OpenStreetMap vedremo come condividerlo ad esempio su Facebook, su Twitter o Google+. Al ritorno, quando l'elemento è stato mappato in OpenStreetMap, nel sito di Monferrato Paesaggi apparirà un nuovo testo e con scritto questo elemento è stato mappato in OpenStreetMap. Come si fa tutto questo? Vediamo il video. Buonasera a tutti, ho visto che si sta parlando tanto di OpenStreetMap e quindi vediamo cos'è OpenStreetMap. e come il sito del portale del Monferrato può contribuire un po' ad arricchire questo OpenStreetMap. Se andiamo a vedere cos'è OpenStreetMap ci troviamo un portale in cui ci sono caricate molto simili a Google Map ma con una logica un po' diversa. Come potete vedere c'è tutto il mondo su OpenStreetMap. Se ad esempio andiamo a cercare Berlino, qua nella ricerca Berlino-Germania, anche se la mappa è di tutto il mondo, noi abbiamo un dettaglio molto maggiore che si avvicina pure alla presenza degli edifici, a tutta una serie di informazioni che possono essere sia i percorsi pedonali sia il bike sharing e la stessa cosa possiamo trovare a Milano o in altre città del mondo. ad esempio anche Milano che se non ricordo male ci sono segnate sia le fontanelle sia i vari accessi che ci sono nelle varie strade. C'è anche qui esattamente il bike sharing. Se vedete questi puntini sono addirittura degli alberi che possiamo trovare e ci sono tutta una serie di informazioni. Una cosa da dire è che ad esempio se noi vediamo così Milano, se proviamo ad andare invece a Casale-Monferrato, la situazione non risulterà così molto dettagliata. E questo, anche se a Casale-Monferrato ci sono veramente tante informazioni, forse ho fatto un esempio sbagliato, proviamo ad andare su Lu. il comune di Lu, come vedrete ci sono solo le strade e l'indicazione principale. Questo perché OpenStreetMap, di cui esiste anche un riferimento italiano per OpenStreetMap, è un progetto che punta a creare e rendere disponibili dati cartografici liberi e gratuiti a chiunque ne abbia bisogno. Il progetto è stato annunciato perché la gran parte delle mappe normalmente si pensano libere, hanno in realtà restrizioni legali o tecniche, impedendo quindi alle persone il loro uso per scopi produttivi e creativi. Questo succede sicuramente per altre mappe di cui conosciamo veramente di più l'utilizzo. OpenStreetMap è una mappa in cui gli utenti possono contribuire, infatti adesso andremo subito a vedere come contribuire a questa mappa, è deliberamente distribuibile, un po' come la Wikipedia, infatti viene detta anche la Wikipedia delle mappe. Ok, proviamo a fare subito un esempio. Andiamo sul sito Monferrato Paesaggi, sceliamo i comuni. Mi ricordo che c'era un edificio interessante che volevo mappare su Murisengo, vado sulla scheda di Murisengo del comune, vado in chiesa di San Luigi, Ok, chiesa di San Luigi, e quindi sul comune di Murisengo della chiesa di San Luigi, c'è ad esempio questo menu che mi dice questo elemento non è stato mappato in OpenStreetMap, viene proposto di mapparlo, il link che mi si apre è esattamente sul luogo, in effetti qui si vede un po' vuoto, c'è un'indicazione del cimitero di Corteranzo, che sicuramente è questo il cimitero di Corteranzo, e a questo punto cosa si può fare? Si può modificare. Si può, ovviamente bisogna loggarsi con l'account di OpenStreetMap, io faccio modifica, si apre un editor, viene chiamato editor, si chiama proprio editor ID, e vedo proprio che qui nella fotografia aerea che dovrebbero essere sicuramente quelle di Bing e non di Google Map, qui vedo la chiesa e l'edificio che viene nominato appunto chiesa di San Luigi. Faccio un attimo un'interpretazione perché questo qua è il cimitero, questo anche dalla foto che mi può aiutare, qui dietro c'è il cimitero e qui c'è appunto la chiesa di San Luigi. Quindi oltre al cimitero dovremmo aggiungere un'informazione anche qui. Cosa possiamo fare? Allora, visto che ci siamo, vediamo subito cos'è questa linea. Questa linea è una strada di uso agricolo. Vediamo qua tutte le varie informazioni. Sicuramente è mappata questa strada che arriva fino a qua, poi qua ci sarà un'altra strada con un parcheggio che noi possiamo andare a mappare. Quindi inseriamo una nuova linea. Se noi clicchiamo su linea, ci avviciniamo al punto, si evidenzia un punto che sarebbe geometricamente il vertice di questa linea. Disegniamo, andiamo verso più o meno l'ingresso che si riconosce bene dalla fotografia era e al terzo punto, quando abbiamo finito, clicchiamo invio. Se questo mi diceva che era strada di uso agricolo, possiamo prendere come riferimento, qui in basso c'è tutti i tag, agway track. Anche noi mettiamo agway track. E questo incomincia già subito a prendere delle informazioni. Ok, avete visto che da linea è diventato una strada di uso agricolo. Se proviamo a cliccare sulla linea quella che era già stata creata, possiamo vedere che ci sono molte altre informazioni che a saperle, a conoscere il luogo, a conoscere il posto, se magari qualcuno ci abita, può inserire molte informazioni. Ma questo lo vediamo subito dopo quando inseriamo l'edificio, come si fanno a inserire tutte queste informazioni. Un'altra cosa che si può fare, facciamo il perimetro di questa area, clicchiamo appunto su area, cerchiamo di seguire il più possibile quello che si riesce a vedere, qui arriva fino a questo punto, poi qua fa una specie di esagono sulla chiesa, poi va a finire verso questo punto, qua non si riconosce bene però fino a qua vedo che c'è il muro e poi chiudo e adesso chiudo. Questo è il cimitero, qua ci suggerisce se dovrebbe essere il luogo di culto, appunto cimitero di Corteranzo però visto che è già scritto qua possiamo anche a questo punto lasciarlo come area. avremmo dovuto cancellare magari questo punto e inserirlo come area, o comunque prendere riferimento da questo, scrivere cimitero land use cemetery name Corteranzo, noi possiamo aggiungere qui, se non ci ricordiamo possiamo ritornare a vedere quello di prima, quindi non è questo che è stato aggiunto in automatico ma è l'end use, se incomincio a scrivere CE, se non so bene il nome in inglese, mettendo CE ti suggerisce cemetery, building yes se non sappiamo se è un edificio possiamo eliminarlo, quindi diventa un cimitero. Eravamo venuti qua per mappare la chiesa, la chiesa di San Luigi, quindi la inseriamo come punto, l'indicazione del punto è un po' meno precisa dell'indicazione della superficie, però noi proprio come indicazione possiamo mettere tranquillamente un punto e poi magari fare un rilievo di dettaglio per vedere com'è questa superficie. Mettiamo un punto così almeno questa informazione può essere utile magari anche a qualcun altro che come me passa in quest'area e vuole aggiungere più informazioni. Qua ci chiede nome, ovviamente chiesa di San Luigi, è preferibile non mettere chiesa di s.luigi, ma è meglio mettere San Luigi e se hanno altre informazioni sul nome è meglio aggiungerle tutte quante. se la chiesa di San Luigi è cristiana dovrebbe essere nel comune di Murisengo e poi se abbiamo ulteriori informazioni possiamo aggiungerle. Quindi, name, chiesa, religione cristiana, Andra City, Murisengo, denominazione cattolic, che è la denominazione del religion, chiesa, ok, place of worship, perfetto, luogo di culto è place of worship e se noi avessimo anche le informazioni, ad esempio, sull'immagine potremmo mettere anche le informazioni sull'immagine. Però, per inserire le informazioni sull'immagine, questa immagine deve avere una licenza Creative Commons, condividi allo stesso modo e che ti permette l'utilizzo per scopi commerciali. Proviamo a vedere se in internet, chiesa di San Luigi, Murisengo, cerchiamo strumenti di ricerca, immagini, strumenti di ricerca, diritti di utilizzo per essere contrassegnate e essere riutilizzate. Qui possiamo vedere che non sembra esserci una foto, quindi bisogna prendere una fotografia che ti permette di avere questa tipologia di licenza. Quelle che sono presenti su Wikipedia sono distribuibili con questa tipologia di licenza. La chiesa di Murisengo, ad esempio il castello di Casale Monferrato, può essere sicuramente aggiunto, ma la chiesa di San Luigi potrebbe avere qualche problema. Bene, cioè è poco conosciuta e quindi non c'è una diffusione di queste fotografie, ci vuole una fotografia che sia distribuita con questa licenza. Salviamo il nostro punto, però prima di salvare volevo farvi vedere perché noi abbiamo messo place of worship name religion. esiste una wikipedia dedicata ad OpenStreetMap. In questa wikipedia dedicata ad OpenStreetMap mettiamo che noi dobbiamo disegnare qualsiasi altra cosa. Scriviamo church, che è chiesa. Qua ci dice che ogni luogo di culto deve avere amenity place of worship. E' questo proprio il motivo perché noi abbiamo messo place of worship e non chiesa. Ma qua ci dice che amenity place of worship, quindi luogo di culto, e l'abbiamo messo. Religion Christian, denominazione Catholic, denominazione Catholic. E qua ci dice anche che va che si può mettere anche building uguale church. Questo lo possiamo inserire, andiamo qua sotto, facciamo building uguale church. Perfetto, così abbiamo mappato, abbiamo anche inserito molte informazioni, però questa qua è la procedura corretta per mappare un luogo in OpenStreetMap. Avremmo potuto, ah, moschea, church, cappella, ok. Si può inserire la data di apertura, il servizio e le informazioni sul contatto. Se ad esempio noi andiamo a cercare fontaine, lui ci consiglia che non è fontaine ma è drinking water, quindi noi possiamo inserire addirittura tutte le fontanelle. Quindi quando uno è in giro per il Monferrato, cerca una fontanella, magari nei sentieri, con il proprio navigatore, naviga e può sapere qual è la fontanella più vicina. Questo è interessantissimo ed è per questo perché OpenStreetMap ha un suo valore, un suo valore che non è ancora stato raggiunto dagli altri gestori di mappe. Quindi salviamo e scriviamo ho aggiunto la chiesa di San Luigi perché è trovata sul portale Monferrato Paesaggi. Infatti qua possiamo scrivere queste informazioni, possiamo scrivere comunque un commento così quando una persona si trova in questo luogo potrà vedere quale modifica e il motivo della modifica. Si può anche lasciare vuoto, ma io lo sconsiglio e comunque anche la comunità OpenStreetMap che è veramente grande e piena di persone anche molto spesso in italiano. Ci si dà queste regole e si vede come mappare ed imparare a mappare con OpenStreetMap. Giusto perché sono tutti che credono in questo valore aggiunto che ha la mappatura. Qui salviamo, qua ci chiede prima di dividerlo su ASM però sarebbe interessante anche condividerlo su Facebook. Anche direttamente lo stesso commento scrive ciao Monferrato Paesaggi almeno vediamo le segnalazioni che vengono fatte. Ciao Monferrato Paesaggi ho mappato su OSM che è OpenStreetMap la chiesa di San Luigi Copiamo il link, ho trovato informazioni interessanti nella pagina incollate. La pagina di riferimento dove avete trovato le informazioni. Questo un po' per avvisare noi e un po' per avvisare anche tutti gli altri. Infatti io lo condivido direttamente sul gruppo Monferrato Paesaggi. Perfetto, così quando noi riceviamo la segnalazione andiamo a vedere il Change Set e adesso vi dico cosa si fa con questo Change Set. Questo può essere fatto anche su Twitter e su Google Plus dove c'è... dove c'è il gruppo Monferrato Paesaggi. Non si clicca... C'ho internet che... Quindi Monferrato Paesaggi, un gruppo. C'è addirittura la categoria Edifici Religiosi. Ciao, ho mappato la chiesa di San Luigi. E noi attraverso questo Change Set, io vado sul sito di Facebook, ricevo queste informazioni. Vedo che la chiesa di San Luigi, di cui ho inserito tutte le informazioni... Adesso non si vedono perché ci vuole un po' di tempo prima che venga fatta una verifica, un aggiornamento di OpenStreetMap. Comunque questo è circa 15 minuti. Noi attraverso questo codice, lo prendiamo, entro nella gestione del sito. Vedete, questo elemento non è stato ancora mappato. Mappalo. Noi l'abbiamo mappato. Torno indietro. Posso modificare questa pagina, perché sono amministratore del sito, quindi non tutti possono fare questa operazione. Sì. No, perché... Sì, sono uscito. Articoli. Era la 6706, giusto? 6706, ok. Chiesa di San Luigi. Vado nel campo giusto che si chiama OpenStreetMap. Incollo l'identificativo. Faccio aggiornamento. Ritorno sulla pagina che potete vedere tutti e invece di questo edificio non è presente su OpenStreetMap, mi dice che questo elemento è stato mappato su OpenStreetMap. Ecco. Vado qui. Clicco. E... Sì, qua c'è un attimo problema di aggiornamento. Ah sì, perché... No, c'è questa cosa in più. Ok. Adesso l'elemento è stato mappato. Ed ecco, è anche già uscito. Quindi ci sono voluti meno di 15 minuti. Abbiamo mappato una nuova zona. E... Questo è OpenStreetMap. Se volete più informazioni su OpenStreetMap, ve l'ho detto prima. C'è OpenStreetMap Italia. OpenStreetMap.it C'è la wiki OpenStreetMap.org E c'è anche un forum dove si possono trovare tutti gli utenti che stanno contribuendo alla creazione di questa mappa per quelli italiani. Si chiama... è un gruppo, è una mail list, Nabol. E se vedete qua, a parte i 6285 messaggi, c'è proprio... è internazionale però c'è proprio la parte dedicata alla... C'è la parte dedicata ai mappatori italiani e qua ci sono veramente un po' tutti i... I vari messaggi che si scrivono in vero e proprio forum. Oppure, comunque, chiedete a noi che siamo... conosciamo e cerchiamo di contribuire un po' a OpenStreetMap.it Bene, spero che questo lunghino tutorial vi abbia fatto piacere e... Non esistete a chiedere. Ciao!